vai fatti portare dalla corrente metti la pagaia a contrasto della corrente opponila da correre vai non andrà tanto da se non riman ferma o vai 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 forza per addirizzare la prua al di là di laura vai di là tu dovresti fare il timone però in mancanza di quello fa questa maniera vai cambia vai addirizza